Allora ragazzi, McLaren a Interlagos ha tutte le carte in regola per essere favorita Diciamolo a inizio video, mettiamo subito le mani avanti Non per tutelarsi ma perché di fatto McLaren qui parte come favorita E uno magari tende a dimenticarselo visto gli ultimi weekend della Ferrari Che quasi ci hanno fatto entrare nell'ottica che può vincerle tutte Spoiler, si può anche non vincere Ma complessivamente se porti i tuoi piloti ad essere terzo e quarto E magari prima e secondo ci finiscono Norris e Verstappen Puoi comunque fare male Ma adesso ci arriviamo Potete anche già chiudere il video fin qua Sapete quello che dovete sapere A Las Vegas il discorso sarà un altro Intanto però seguimi su Instagram perché per le qualifiche vi aggiorno lì Poi domani ritorniamo sul canale Iscriviti Torniamo al nostro discorso Perché la MCL38 si adatta estremamente bene alle caratteristiche tecniche del circuito brasiliano E gli aggiornamenti In parte mirati, in parte quelli che abbiamo già visto Quindi il fondo portato ad Austin è che ha debuttato anche in Messico Ma che sicuramente si esprimerà meglio su un circuito come quello di Interlagos Unito a un'ala posteriore specifica per questo gran premio A medio carico Che mirano a massimizzare le velocità in rettilineo Andando quindi a ridurre la resistenza aerodinamica Senza però perderne di carico in curva Porta una sola morale McLaren su questo circuito vuole vincere Circuito favorevole Aggiornamenti mirati Ragazzi Loro oggi scendono in pista per vincere C'è però nonostante tutto entusiasmo e consapevolezza che nelle ultime due gare hai recuperato 46 punti Nelle ultime due gare probabilmente non avevi la possibilità di fare questo gran risultato Di conseguenza la Ferrari è rientrata in lotta per il titolo Meno 29 punti nei costruttori e questa McLaren addirittura non sembra all'attacco Sembra quasi in difesa Sembra debba trovare una doppietta qui a Interlagos E con il tracciato che non è privo di incognite In realtà Ferrari Qualcosa forse può anche tirar fuori È difficile per l'amor di Dio Però anche qui è un bel banco di prova Se dovesse uscire un risultato maggiore di quello che è un terzo e un quarto posto Tanta roba Perché dunque si può sperare? La pista è stata completamente riasfaltata due mesi fa letteralmente in tempi geologici diremmo ieri Non è stata disputata alcuna gara non c'è gomma sull'asfalto e questo è poco rugoso Sia proprio toccandolo guardandolo con occhio a un metro di distanza Anche meno puoi notare che nella sua macro rugosità questo è il termine corretto è poco rugoso Poi entrando nello specifico quindi nella sua micro rugosità anche lì è poco rugoso Cosa vuol dire questo? Che oltre ad aspettarci un grande vasto qualora dovesse venire a piovere E non è scontato perché potrebbe portare pioggia per il weekend Potrebbe essere un tema il drenaggio dell'acqua Ma ipotizzando uno scenario normale senza però escludere quello lì Probabilmente vuol dire che in alcune parti la macchina tenderà a scivolare di più Per quanto Pirelli ha effettuato dei test e in alcuni tratti di circuito addirittura dice che rispetto al 2023 il grip è aumentato Tendenzialmente potrebbe esserci il problema del surriscaldamento delle gomme Con un asfalto che in alcuni punti genera meno aderenza Risultato vettura che scivola, temperature che si alzano e gestione degli pneumatici più difficile E poi in aggiunta so che può sembrare strano perché noi di solito siamo più concentrati sulla vettura piuttosto che sull'asfalto Però ecco questo risulta essere più scuro rispetto a quello dello scorso anno Di conseguenza cosa vuol dire? Che si surriscalda prima la parte superficiale E in questi giorni pensate che le temperature registrate sull'asfalto arrivavano ai 60 gradi Tutto ciò per dirvi che in questo contesto è importante avere certezze, è importante avere cose che funzionano E' importante avere delle soluzioni specifiche per star tranquilli Perché queste piccole variabili ti rendono la simulazione più difficile E quindi da casa al simulatore ti prepari con più difficoltà Ma allo stesso tempo genera variabili E quindi avere soluzioni funzionanti, avere delle alternative E in questo caso un'ala posteriore specifica ti può aiutare Per evitare appunto che magari la Ferrari ti strappa altri punti Ripeto, la Ferrari non parte come favorita Però c'è un qualcosa a cui tu puoi aggrapparti e cui puoi sperare Poi dipende, le qualifiche stanno oggi e vediamo magari i valori cambiano Noi stiamo comunque ipotizzando le incertezze ci sono per tutti Però ecco in un contesto del genere chi sembra favorita paradossalmente è la Ferrari Perché noi sappiamo benissimo che con la SF24 la gestione pneumatici in gara di solito è molto buona E' il punto di forza della SF24 E la strategia può giocare un aspetto importante La scelta delle mescole potrebbe risultare particolarmente complessa Sapendo che i team hanno a disposizione per questo weekend Con anche la sprint, due set di dure, quattro di medie e sei di gomme morbide Molte poche dure, che se funziona, se è la gomma della gara Se l'asfalto usura più del dovuto, le metti in sprint e in gara, stop Ma le medie potrebbero non resistere 24 giri O meglio, potrebbero resistere 24 giri con un passo migliore per qualcuno E con un passo peggiore per qualcun altro Ed ecco qui perché McLaren potrebbe avere un'incognita sfavore Perché appunto sappiamo che la SF24 si comporta bene in gara E quindi la strategia è in un contesto Ferrari contro McLaren Sperando che magari ecco Red Bull rimanga nelle retrovie Almeno con Chaco Perez Io sto guardando il mio orto Poi Verstappen pensa al suo mondiale Però la strategia può fare tutta la differenza del mondo Anche se si parte con le stesse mescole Quindi McLaren, onde evitare problemi, porta un'ala posteriore specifica Ora con questo video che vi rimanda alle qualifiche di questa sera Sto cercando di comunicare a tutti che la Ferrari Secondo il mio punto di vista Poi vediamo cosa succede Magari si presentano con una vettura da primo e secondo posto Lì mi chiedo cosa sia successo alla SF24 Perché è davvero difficile questo weekend Però con un terzo e un quarto posto solido Magari Lando Norris scaccia la performance Gli aggiornamenti funzionano La McLaren su questo circuito va forte Vince Verstappen fa secondo Non può permettersi altro E quindi facciamo che accade questo Se Ferrari chiude terzo e quarto Al quinto posto troviamo Lewis Hamilton Al sesto posto troviamo George Russell Con Oscar Piastri settimo Capite che fare un terzo e un quarto posto fa male Gli aggiornamenti devono riportare Piastri là davanti E devono portare Norris a vincere Perché altrimenti il titolo mondiale se lo sogna La sprint di domani Tanto può essere un'anteprima critica Dove la Ferrari strappa punti a McLaren O tanto può essere un'anteprima critica Dove la Ferrari comprende come gestire al meglio le gomme Per la gara di domenica Mettendo magari pressione a McLaren Mettendola magari in condizioni di dover scegliere qualcosa di diverso E magari si capitalizza non volendo Interlagos quindi non sarà solo una sfida tecnica Non sarà solo una sfida con la monoposto Ma sarà proprio una sfida strategica Ed è il reparto strategie che si chiede qualcosa in più questo weekend C'è solo una cosa che mi fa paura Una e nient'altro Le qualifiche Se parti dietro hai un problema Se parti dietro a Piastri Se parti dietro a Norris Hai un problema Ma qui Lascio la parola a voi nei commenti Ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto In bocca al lupo per questa sera Seguitemi su Instagram Mi raccomando io vi aggiorno in diretta E quando posso sempre lì Al massimo in sezione community di YouTube Comunque date un'occhiata Trovate tutto in descrizione Io vi ringrazio tutti Dal primo all'ultimo Vi lascio sempre a schermo Per il vostro supporto Questo è il gruppo che ha deciso anche di donare Io vi ricordo che qualora vogliate aiutare il canale Trovate il link in descrizione delle donazioni Io dunque vi saluto Da Tony Era tutto Passo E chiudo